Giovedì 22 giugno, una buona giornata dalla redazione di TRM H24 e ben ritrovati con la nostra edicola, spazio dedicato alla lettura dei quotidiani. Iniziamo dalle notizie di taglio nazionale, siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata ai temi legati alla politica, alla riforma della giustizia in particolare. Nordio, riforma, vado avanti, MES, nuove tensioni nel governo, decreto lavoro, scivolone della maggioranza. Il ministro della giustizia, no a scontri con i magistrati, ma interverremo anche sull'avviso di garanzia. In taglio centrale invece la fotonotizia, clochard ucciso a calci e pugni, presi due sedicenni, fiori e biglietti dove è stato trovato morto a Pomigliano d'Arco il clochard Frederica Quasi, ganese di 43 anni. Il video è stato registrato, il video del pestaggio che è costato la vita al clochard. Siamo invece in taglio alto dove ritroviamo i temi legati alla politica estera. Von der Leyen, il futuro di Kiev nell'Unione Europea, giusto che la Russia paghi la ricostruzione. Lo Tsar presto in campo, Putin evoca i missili nucleari. Biden attacca Xi, lira della Cina, il leader USA dichiara un dittatore. E poi ancora Moravia fallaci, l'idea di nazione, Whatsapp più le polemiche, i temi della maturità della prima prova in particolare. Ma non sono tracce sovraniste, il commento firmato invece da Aldo Cazzullo. In taglio basso il caffè di Massimo Gramellini, quest'oggi intitolato Tutti mi odiano. Prima di lasciare la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a dare anche uno sguardo al titolo dell'articolo di fondo. Lomino in maglia militare, fattore Zelensky e l'articolo firmato da Goffredo Buccini. Ci spostiamo quindi sulla prima pagina di Repubblica. Anche in questo caso ci sono i temi legati alle questioni politiche in primo piano. Il mess e scontro tra Giorgetti e Meloni alla Camera, un parere tecnico del Ministero dell'Economia, apre alla ratifica. Migliorerebbe il rating dell'Italia. Maggioranza in tilt, gelo della Lega. La Premier affronta il titolare di via 20 settembre. Devi tenere a bada dei tuoi, dichiara incognita sul voto in Parlamento. Il centrodestra prova l'ennesimo rinvio. Siamo invece in taglio centrale. La fotonotizia in questo caso dedicata alla maturità. Il tema sull'attesa sbaraglia la maturità. Prima prova per 536.000 studenti. Con in taglio centrale. La cronaca. Toleranza zero e patente sospesa su alcol e cellulare alla guida. Parliamo del codice della strada. Torniamo però anche sui temi legati all'economia. L'Europa non può attendere. È il commento firmato da Carmelo Lopapa. Polemiche anche sulla giustizia. Melillo, sfida nordio. Servono più strumenti per intercettare. Il triplice collegio previsto dalla DDL paralizzerà i tribunali. Diamo ancora uno sguardo alla prima pagina della Repubblica. Titan, ultime ore per la speranza. Esondazioni, il rischio Arcadia. Ci spostiamo dunque sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo sull'edizione nazionale. Ancora l'energia del futuro. Rinnovabili forum della Gazzetta con gli esperti. Gli obiettivi da cogliere per dire addio al carbone. Stellantis, Melfi, vertice a Roma. Il governo lavora al piano auto. Emissione di benzene dall'Ilva. Decidere sarà il tardi Lecce. Acqua ponte con Israele. Mentre a QP si sposa con Acea. Le idee a illecito tributario. Sanzioni più softe. Poi il dramma dei bimbi scomparsi nel nulla. in taglio basso. Siamo ancora sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Incom tra i Silvestrini ma non lo aiuta il ex premier Conte alla Guardia di Finanza sulle manovre del magistrato di Lecce. Si parla anche di elezioni comunali a Bari. De Santis stringe il campo. Politica e segretario del PD. Maicon la Lega. Ruolo ai civici. Capitaneria in campo per garantire maresicuro l'operazione. Dislocati 26 mezzi sul fronte. Apulo Lucano. E continuiamo la nostra rassegna andando a leggere la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Siamo sull'edizione pugliese. Sanità. Una legge per la Puglia. Vertice col ministro Schillaci. Palese. Un decreto per fronteggiare l'emergenza. Il dialogo con il governo. L'assessore chiede misure contro la carenza di medici e gli altri problemi del settore. Intanto però tensioni alla regione. Emiliano ascolta il partito democratico e dice sì alla verifica. Siamo ancora sui temi legati alla maturità. Spopola Piero Angela. Ieri la prova di italiano. Oggi invece il secondo scritto. Andiamo dunque a dare un'occhiata anche alle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. E ritroviamo a pagina 2 la notizia letta in apertura. Dal caso Stea al pressing del partito democratico. Emiliano dice sì alla verifica. Un solo consigliere per i popolari. L'assessore rischia confronto sul patto con sinistra italiana. E poi ancora ospedali. Palese in casa del ministro. In Puglia. Norme come per il covid. Vertice a Roma sulla carenza dei medici e fondi. L'assessore ora serve un decreto legge. Siamo dunque sulle pagine della Repubblica. L'edizione di Bari. In questo caso l'apertura dedicata ai temi politici. Il PD no al modello Stea. Ma le civiche vogliono spazio. Bufera dopo l'intervista dell'assessore di Emiliano che ha proposto una grande alleanza tipo Altamura. De Santis noi alternativi al governo Meloni. Anche la Lega è contraria. Il lungomare ora investono i privati. Il progetto Costa Sud sta spingendo i proprietari a riqualificare. Così rinascerà Villa Anna. E continuiamo sulla prima pagina della Repubblica. L'erario. Le imprese. Era un patto corruttivo e duraturo. Queste le dichiarazioni. Il caso. Altri due ragazzini aggrediti. Ormai siamo all'emergenza. Parliamo dunque di cronaca. Intanto torna dal 5 libro possibile. L'evoluzione di saperi e di diritti. Andiamo a dare uno sguardo alle pagine interne. Siamo ancora sulla Repubblica. Altri due ragazzini aggrediti. Siamo all'emergenza. Ritroviamo il titolo che abbiamo letto in apertura. Andiamo anche rapidamente a leggere quelli che sono stati i punti della questione approfondita appunto da Repubblica. Il caso. Martedì sera. Due quindicenni sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei vicino al Margherita. La ragazza è stata tirata per i capelli e scaraventata a terra. L'amico invece è stato preso a puni precedenti anche nel 2022 e dunque lo scorso anno. L'appello che arriva dal Banardone rappresentante di Bulli Stop, un gruppo di genitori che ha inviato una richiesta alla prefetta Antonella Bellomo per fissare un incontro proprio sulla questione. Torniamo ora sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo però alle edizioni locali. Partiamo dalla Gazzetta di Bari. In taglio alto ritroviamo appunto la cronaca. Lui preso a pugni, lei per i capelli. Baby Gang aggredisce due quindicenni davanti al Margherita. Il padre della ragazzina dichiara nessuno l'ha aiutata a rialzarsi. È corsa per la tassa di soggiorno e si paga solo se si pernotta. Si limitano i dettagli se tutto filerà liscio in vigore da settembre. Ci spostiamo sulla Gazzetta della BAT. Ecola qui. Maturità, emozioni e ansie degli studenti nella BAT. Il titolo di apertura dedicato dunque agli esami di maturità. Trani, operaio raggiunto da una scarica elettrica. L'uomo, 64 anni, stava lavorando su un solaio. Non è grave. Siamo dunque sulla Gazzetta di Capitanata. Le notizie che arrivano dal territorio del Foggiano. Omicidio tra giovanissimi. Condannato studente che uccise il 21enne di Rienzo. Ha appena 18 anni. Non volevo più rubare per lui, ha dichiarato, ma il tribunale non gli crede. Nuova zona, stazione. Il comune vuole verificare il progetto di ferrovie dello Stato. Prevede solo pannelli fotovoltaici. Cardellicchio chiede intanto un incontro. La Gazzetta del Salento. Ombre sullo stoccaggio del piombo. Lecce sigilli in un'azienda. In taglio alto invece. Ancora a Lecce. La burocrazia blocca la nuova camera iperbarica. Sindaci Brindisini. Subito il nuovo DG. La Gazzetta di Taranto. Parcheggi. Colpo dell'opposizione. Passa la mozione di Forza Italia per ripristinare tariffe aggevolate ai lavoratori dipendenti. Il Consiglio Comunale. La proposta presentata da di cui ha spaccato la maggioranza. In quattro hanno votato contro e in otto si sono invece astenuti. Omicidio Nardelli. Gli affari dei Vuto tra bar, locale e droga. Oggi gli interrogatori per i cinque arrestati. Siamo ancora sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. L'edizione però della Basilicata. Dunque le notizie dei territori di Matera e Potenza. Strade incubo frane. Questo è il titolo di apertura. Giordano lancia l'allarme. Serve un piano Marshall di sesso idrogeologico. Il presidente della provincia di Potenza chiede il sostegno della regione. Servono almeno 60 milioni di euro. Stellantis. Bardi a Roma. Un piano nazionale per difendere Melfi. E dal fronte dello spettacolo che è Cozzalone a Matera. Due serate di amore e divertimento con Iva. Questo è il titolo dedicato alla notizia di spettacolo. Passiamo all'edicola del sud. Andiamo a leggere il titolo di apertura. RSA fuori legge 4 su 5. Sanità in commissione dossier shock del NIRS. In Puglia decine di strutture senza requisiti previsti. In taglio alto spazio ai temi legati appunto alla maturità. Le tracce spiazzano gli studenti. Tra i banchi pure Roberto Nigro sindaco di Stornara. La cronaca cerignola ladri scatinati e rubati 30 auto al giorno. Mare sicuro. Coste blindate con 40 militari. E poi ancora il festival libro possibile con Gratterie De Giovanni. Rapidamente anche la cronaca in taglio basso. Impazzano le baby gang sul lungomare l'ennesima aggressione. Angarano ufficializzata la nuova giunta. Non c'è posto per Fata. Telecamere e droni per garantire sicurezza in città. Siamo in questo caso a Foggia. Dal fronte lucano nasce la lucana film commission and game. sì alla proposta del Movimento 5 Stelle. E ci avviamo alla conclusione dando uno sguardo alle notizie di natura economica. Come di consueto la prima pagina del sole 24 ore. Cuneo causali e incentivi. Come cambia il lavoro. Modi negli Stati Uniti. Così Biden punta a contenere la Cina. Infine la fotonotizia dedicata ai bonus edilizzi e ai fondi per il PNRR sotto stretta osservazione. È una delle dichiarazioni dell'intervista realizzata ad Andrea De Gennaro. E infine in taglio basso MES parere positivo dell'economia riaccende lo scontro in Parlamento. Noi ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per l'attenzione. A tutti una buona giornata.